Sette reti, due legni, alcune belle giocate e triangolazioni, qualche errore di troppo sottoporta più di una bella parata del portiere avversario. La polisportiva Bitonto deve tornare a vincere davanti al pubblico amico, non lo faceva dal 15 dicembre e nel 2020 erano arrivati due e K.O. fragorosi consecutivi e lo ha fatto in un modo che ci è piaciuto. Certo, le gare delle oncelle siano guarite saremmo falsi, ma è una convalescenza che prosegue con sorriso, anche perché alternative alla vittoria non ve ne sono molte, visto che lì davanti il New Cup San Michele corre come una lepre impazzita. E così nel ventitresimo trono di campionato a farne le spese è stato l'Esperia Monopoli, penultima forza della Serie C regionale e tanto di meno rispetto alle leoncelle, che hanno giocato con tante facce nella stessa partita. Dobbiamo continuare a lavorare, attraverso il lavoro si iniziano a vedere i disegnali di ripresa, speriamo di avere una giusta continuità per finire bene la stagione. Hanno saputo sia osare e alzare il ritmo quando era necessario, capendo fin da subito che si poteva mettere in difficoltà gli avversari ogni qual volta lo si voleva, e hanno addormentato la contesa quando le Rosso-Blu hanno cercato, quasi sempre senza riuscirci, di rimetterla sui dritti binari. Per dirla con un detto commestibile a tutti, allora, è come un gatto che dava la caccia al topo. Nel tabellino sono entrate due volte Giovanna Buono e quindi Sabrina Papapicco, Michela Azzarino, Lavinia Di Melo, Flora La Rossa e Simona Porcelli. Ventesimo successo in campionato e 60 punti messi in cascina, ma c'è sempre da inseguire perché il New Cup viaggia sempre a ve le spiegate con tre lunghezze in più e lì dietro l'Altamura e sempre a fare pressione a meno 6, eppure una partita in meno. Domani le loncelle del patrono Silvan Mintini riposeranno e torneranno in pista sul parquet amico l'8 marzo, il dì della festa della donna. Ci sarà da affrontare il capo di Leuca, quarta forza del torneo. Leuca è una bella squadra, una bellissima squadra, ci ha dato filo da torcere sia a Cisternino nella Coppa sia in casa loro, a delle ottime giocatrici come ad esempio Sergi e non vanno sottovalutate.